Regione, passano a maggioranza gli atti economico-finanziari, voto unanime su un ordine del giorno di Fratelli d'Italia sul Maggio Fiorentino e su uno della Lega sulla scuola. Approvata la proposta di risoluzione della Commissione per la valorizzazione delle aree interne, l'atto impegna la Giunta a costituire una consulta delle isole minori, garantire accessibilità territoriale e interventi mirati sui servizi pubblici. Il Consiglio della Toscana ha approvato a maggioranza l'integrazione alla nota di aggiornamento al DEF 2022, la seconda variazione al bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 e gli interventi normativi collegati. I provvedimenti, accolti gli emendamenti presentati in aula dal Presidente Giani, è passato con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e il voto contrario dei gruppi di opposizione. Prima della votazione finale sono stati messi al voto 13 ordini del giorno e tre proposte di risoluzione della Lega collegate agli atti economico-finanziari, solo due quelli approvati con il voto unanime dell'Aula, l'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia in merito al sostegno regionale alla Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e un ordine del giorno della Lega in merito al taglio delle classi nelle scuole toscane. Il dibattito ha riscontrato una serie di indicazioni, suggerimenti, ma complessivamente ho visto la soddisfazione dell'intero Consiglio regionale perché questo consente di rimediare a ciò che le spese per il Covid avevano portato a espandere il bilancio 2021. Noi sostanzialmente abbiamo dovuto trasferire con quest'ultimo atto, che è un atto di poco più di 50 milioni, ma in complesso in un anno e mezzo più di 400 milioni di spese di bilancio da quelli che sono i capitoli dei vari assessorati, tutti sulla sanità per poter chiudere. Ma ce l'abbiamo fatta con l'obiettivo fondamentale, non gravare con ulteriori imposte e tasse ai cittadini. Tutto all'interno del bilancio senza aumentare le imposte. Dall'altra è evidente che le variazioni bilancio contengono anche la capacità di rispondere a una serie di problemi concreti, ma direi proprio di elettoralistico non c'è niente. Tanto è vero che anche nelle ultime indicazioni di variazione abbiamo messo i 9 milioni e mezzo per la bonifica delle falde nella città di Piombino, interventi che possono creare le condizioni perché lo Stato investa anche esso e quindi risorse su una bonifica attesa da anni e risorse sul prolungare la graduatoria degli impianti sportivi. l'impiantistica sportiva era arrivata ad avere più di 200 domande, tutte da comuni. In realtà, sapendo che potevamo rispondere solo a 50 positivamente, con questa integrazione di 9 milioni e 370, noi arriviamo a coprire almeno un'ottantina i comuni. Non arriviamo nemmeno alla metà di quanti hanno fatto la necessaria domanda, ma ce la facciamo. L'abbiamo messo in questa variazione perché i soldi devono essere impegnati entro l'anno e chi ha partecipato a un bando è naturalmente previsto li possa spendere perché ha i progetti esecutivi entro l'anno. Si tratta di interventi significativi ai quali si provvede con una copertura finanziaria che in parte si avvale del ricorso al credito con una revisione dei massimali di autorizzazione all'indebitamento, ma dall'altra parte si tratta di una misura che mette in garanzia o prova a mettere in garanzia la Regione Toscana rispetto al recupero del disavanzo sulla sanità derivante dagli effetti della pandemia. Vengono infatti liberate risorse che vengono destinate proprio al recupero del disavanzo per oltre 38 milioni di euro. A queste si devono aggiungere le risorse disponibili sul fondo di riserva che vengono implementate di quasi 20 milioni di euro e questo dovrebbe darci la prospettiva, anche se margini di incertezza ci sono ancora, di far sì che la Regione Toscana possa rientrare del famoso disavanzo di cui si è a lungo parlato dovuto appunto agli effetti della pandemia. Quindi una misura importante, quella che è stata licenziata dal Consiglio regionale che per la seconda volta dall'inizio di quest'anno va ad arricchire il territorio toscano di una serie di interventi che sono il frutto di necessità di spesa, soprattutto di investimento che non erano preventivabili al momento in cui si è adottato il bilancio nel dicembre del 2021. Risposte concrete per il territorio toscano e soprattutto molti aiuti agli enti locali, province e comuni soprattutto come si è detto sul fronte della risistemazione del sistema diario e del recupero degli immobili. Sì, una variazione importante che però testimonia la battaglia che Italia Viva ha fatto, una battaglia che porta in equilibrio i conti della sanità toscana, che tiene in equilibrio le finanze della nostra Regione, che dà risposte ai territori, fa investimenti sulle infrastrutture e sulle opere pubbliche ma che soprattutto non aumenta le tasse ai cittadini toscani. Non era scontato, è una battaglia che arriva da lontano, da quando abbiamo fatto il bilancio di previsioni, sono stati cinque mesi anche di trattativa politica, la nostra fermezza riguardava il fatto che si dovessero trovare le risorse e tenere i conti in equilibrio ma non si dovesse aumentare l'addizionale IRPEF. Questo è stato un motivo del nostro agire, anche per quanto riguarda il bollo dell'auto, c'è una fermezza delle nostre posizioni, riteniamo che qualora ci debbano essere manovre e non andare in maniera espansiva a ridurre la tassazione ai cittadini, non certo da aumentarla, quindi abbiamo dimostrato che si potevano trovare i conti, si potevano trovare le risorse, quindi c'è una modifica del DEFRE, un DEFRE che trova un rilancio a questo punto della strategia di programmazione della nostra Regione e un bilancio che trova un equilibrio grazie a un lavoro che noi abbiamo fatto e che abbiamo sostenuto per effetto di una battaglia politica che oggi trova il suo culmine in questa approvazione di questa variazione. Il periodo è delicato e difficile, tra i più delicati e difficili nella storia anche della Regione Toscana. Il Governatore Gianni sta portando avanti un modo di fare che non ci piace, che rifiuta la condivisione, la partecipazione, il dialogo con le opposizioni. Anche questa volta portate in aula degli emendamenti all'ultimo tuffo, ma io direi ancora di più, in Commissione non si è presentato né in fase di illustrazione né di voto referente. Io le mie domande ho dovuto farle in aula. Eravamo abituati a ben altro atteggiamento da parte dell'ex Assessore Bui. In Regione Toscana continua un immobilismo, un conservatorismo che non è degno della storia della nostra Regione. La situazione è veramente complicata. Consideriamo che l'aumento dei costi energetici potrebbe coinvolgere fino a 15.000 imprese e a 117.000 cittadini toscani. Queste sono le cifre impietose. E noi cosa troviamo? Troviamo un documento economia e finanza che manca della nota di aggiornamento, come se il mondo fosse rimasto lo stesso. E nel mezzo vi è stata una pandemia, siamo purtroppo di fronte a una guerra nel cuore dell'Europa. E soprattutto vediamo un collegato di interventi che sono sempre riconducibili a scelte discrezionali del governatore, mentre noi riteniamo si debba privilegiare lo strumento del bando per una maggiore trasparenza. Noi lo diciamo forte e chiaro, questo modo di fare del governatore non ci piace, così la Toscana non può essere portata avanti. L'opposizione sarà sempre più dura perché se non veniamo ascoltati noi alzeremo ancora di più la nostra voce. Le spese sanitarie vanno coperte e per l'ennesima volta la Regione insieme allo Stato ha ripianato il buco delle ASL che è ammontato, ci ha spiegato il Presidente di Commissione, a circa 550 milioni di euro, sfiorando il commissariamento della Sanità Toscana. Ma oltre a questo ci sono tutta una serie di interventi a pioggia inseriti all'interno di questa manovra di bilancio senza una reale programmazione. Tant'è che Anci e UPI hanno criticato con una lettera aperta la Regione perché non ha svolto la concertazione adeguata sulla manovra di bilancio e soprattutto denunciando il fatto, come noi denunciamo da molti mesi, che questa amministrazione procede ormai dall'inizio della Consigliatura senza il piano regionale di sviluppo e con un DEF, cioè il documento di finanza regionale, poco aggiornato e poco concertato con il territorio. Per questo motivo anche il Consiglio delle Autonomie Locali che deve esprimere parere obbligatorio sulla manovra di bilancio alla fine ha deciso di non esprimere alcun parere. Si tratta di una situazione grave perché naturalmente la concertazione e soprattutto stabilire criteri certi per la realizzazione delle opere sul territorio è un elemento imprescindibile per garantire da una parte sicurezza laddove ovviamente i soldi devono andare soprattutto a coprire situazioni straordinarie e dall'altra parte parità di trattamento per tutti i cittadini e per tutte le amministrazioni perché Gianni sta facendo invece figli e figliastri. Si, approvata la variazione di bilancio in realtà potremmo dire che sono due variazioni di bilancio perché naturalmente come accade molto spesso a seduta iniziata la Giunta ha pensato bene di portare un'altra manovra di bilancio dove sostanzialmente si vanno tra l'altro a fare degli interventi a rimodulare alcune spese che in qualche modo vanno ad incidere sull'impianto originario. Questo naturalmente è un metodo che noi censuriamo perché questo non crea le condizioni per i consiglieri soprattutto consiglieri di minoranza di poter avere una istruttoria approfondita su questioni che sono di assoluta rilevanza e che sono appunto contenute in atti che ci arrivano all'ultimo minuto. Detto questo, l'originaria variazione naturalmente si fondava sulla necessità di riassorbire in qualche modo il debito del servizio sanitario regionale un riassorbimento che sostanzialmente deriva da una serie di interventi di natura tecnica che però ancora oggi non hanno dato certezze sul fronte del pieno e completo rientro anche perché le risorse statali non sono arrivate nella misura in cui la regione si aspettava sono state inferiori e quindi di conseguenza molto probabilmente ci saranno da fare altri interventi su questo fronte. Lo sviluppo socio-economico delle aree insulari della Toscana in particolare dell'Arcipelago e quindi Elba, Giglio, Capraia, Monte Cristo, Giannutri e Gorgona dovrà essere garantito anche prevedendo una consulta delle isole minori dedicate ai temi dell'insularità, della continuità territoriale e dell'integrazione dei servizi socio-sanitario, trasporti e scuola. Ma non solo, ai 33 mila abitanti dovranno essere assicurati interventi mirati sui servizi pubblici è quanto chiede la proposta di risoluzione di iniziativa della Commissione per la valorizzazione delle aree interne guidata da Marco Nicolai e approvata dal Consiglio regionale con 27 voti favorevoli nessun voto contrario e 3 astenuti. Il Governo ha ricompreso questi territori all'interno della strategia nazionale aree interne e questa è sicuramente una buona notizia perché permetterà di aumentare gli investimenti sulla sanità, in particolare c'è il tema dell'emergenza urgenza ma noi abbiamo posto anche il fatto che una misura che il Governo ha fatto per quanto riguarda la premialità per i medici che vanno a lavorare nelle zone montane venga estesa ad esempio anche alle isole, così come per gli insegnanti. Altra questione è il tema della continuità territoriale, i trasporti la Regione Toscana ha finanziato negli anni sia il trasporto sul mare che poi gli interventi sulla parte aeroportuale chiaramente è fondamentale, visto che scadranno poi le convenzioni lavorare assieme ai comuni per migliorare ancora di più questi servizi. Noi come Lega siamo abbastanza soddisfatti perché sono stati, diciamo, nella impegnativa sono stati presi tanti punti che noi avevamo proposto perché le isole sono diverse dalle aree interne, hanno problematiche diverse ovviamente e fra l'altro le nostre isole sono anche molto boscate e poco agricole e hanno il problema del flusso turistico in un certo periodo che è il periodo estivo. I problemi sono ovviamente di sanità, di scuola, di infrastrutture, di acqua, di rifiuti, tantissimi. Quindi si cerca di arrivare ad avere qualcosa di vantaggio che dia per gli insegnanti ma anche per i medici, che dia la possibilità di attrarre un po' di più sulle isole perché alle stesse condizioni che sulla terraferma non ci vengono. Una proposta di risoluzione rispetto alla quale noi pensiamo che manchino due passaggi fondamentali premesso che l'arcipelago toscano è a nostro giudizio l'arcipelago più bello del Mediterraneo ma l'arcipelago toscano è soffocato tra parco e amministrazione carceraria. Quindi noi riteniamo che la regione toscana, il Consiglio regionale, se vuole valorizzare e fare un progetto complesso e complessivo sull'arcipelago toscano non possa evitare di fare una riflessione sulla presenza del parco dell'arcipelago toscano e dell'amministrazione carceraria che di fatto per una cinquantina di detenuti vieta l'accesso a tutti gli altri su due isole meravigliose quale Pianosa e Gorgona.